allo sportello ma che si avvicinano per collaborare in un progetto e poi magari nascono e vengono fuori le problematiche più sentite, più serie. Dottoressa Ingrosso, il suo modus operandi all'interno dello sportello Universo Donna? Diciamo che l'utilità di questi laboratori è un po' questa, innanzitutto perché l'atto creativo in sé permette alle donne di sperimentarsi da un nuovo punto di vista, quindi di conoscere aspetti di sé, di migliorare anche la propria autoefficacia, la propria autostima e poi il fatto di poter lavorare in gruppo soprattutto permette loro di lasciarsi andare, quindi anche quelle che più hanno difficoltà comunicative, difficoltà ad aprirsi, riescono a sciogliere dei blocchi emotivi profondi, andare più in contatto con le altre e oltretutto scoprire che anche gli altri vivono in una stessa situazione problematica, anche se vissuta in condizioni diverse, in situazioni molto personali. Però lo sportello, il laboratorio è quello che più è servito a confrontarsi, ad aprirsi, a mettersi in gioco da un nuovo punto di vista, a poter ripartire con un piede diverso, ricominciare da zero, sostenute dalla solidarietà femminile. Grazie. 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 Grazie.